E' precipitato Don Palo della Luce incontrata anche là lungo il raccordo a 19 Palermo-Catania mentre stava eseguendo un intervento per conto di una ditta a servizio dell'Enel. Un volo fatale per un operaio di 42 anni di Santa Caterina, Giuseppe Saporito. Vano l'intervento dell'elisoccorso, l'uomo infatti sarebbe morto sul colpo. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i poliziotti della sezione volanti e della divisione anticrimine guidati dal vicequestore Michele Emma. A quest'ultimi è stata affidata l'inchiesta. In queste ore gli investigatori stanno interrogando i colleghi dell'operaio assieme agli ispettori del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASP di Caltanissetta. Bisognerà infatti capire se l'uomo è precipitato per una scarica elettrica oppure per un malore. Dubbi che saranno chiariti anche dal medico legale che ha eseguito l'ispezione cadaverica dell'operaio. Intanto la procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta sulla morte di Giuseppe Saporito.